In occasione della giornata mondiale senza tabacco, che ricorre il 31 di maggio, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1987 per focalizzare l'attenzione globale sull'epidemia di tabagismo e sulle morti e le malattie prevenibili da esso provocate, l'ASL di Vercelli rende noto che fra la popolazione di Vercelli e provincia il problema del fumo è piuttosto rilevante. I dati evidenziano nell'ultimo triennio un numero di fumatori attivo del 30%, una percentuale superiore rispetto a quella di tutte quelle registrate dalle altre ASL del Piemonte, in cui la prevalenza stimata è del 25%. Inoltre risulta che a fumare siano più gli uomini che le donne, nella fascia compresa tra 25 e 34 anni. Oltre a questo, la dipendenza di tabacco interessa maggiormente persone con un livello di istruzione basso o con maggiori difficoltà economiche. A questo proposito, l'ASL di Vercelli ha un centro trattamento del tabagismo con due sedi a Vercelli e a Borgosesia ed è sostenuto da un team di specialisti CERD, pneumologi, psicologi e medici competenti, che collaborano nei progetti di prevenzione e trattamento della dipendenza del tabacco, prima causa al mondo di morti evitabili.